Non scende il numero dei contagi da Covid-19 in provincia di Sondrio, sebbene si confermino basse le ricadute sugli ospedali. Secondo gli ultimi dati di ATS della Montagna, rimane costante la situazione di ripresa della circolazione del virus, a cui si assiste ormai dalla metà di marzo. La media di casi gestiti ogni giorno nell'ultima settimana è di 112, mentre due settimane fa era poco sotto i 100. Scende leggermente quella dei guariti, mentre le persone attualmente positive in provincia di Sondrio sono passate da 1.200 di 15 giorni fa a quasi 1.500 di oggi. A fronte di questa situazione generale, l'ultimo report di monitoraggio della diffusione del Covid nelle scuole segnala invece un trend in diminuzione in tutte le fasce di età considerate. Sul fronte della campagna vaccinale ha preso il via da una settimana la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid per ultra-ottantenni e ultra-sessantenni con patologie. Oltre ai centri vaccinali indicati da SST Valtellina e Altolario, nel Morbegnese e in Val Chiavenna le vaccinazioni vengono somministrate agli ultra-ottantenni anche nelle farmacie convenzionate.